Siete giocatori del TCG di One Piece e desiderate utilizzare un mazzo tempo? Avete provato numerosi leader, ma a quanto pare nessuno sembra soddisfare le vostre richieste? E quale potrebbe essere una lista competitiva da utilizzare in torneo? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Nell'ultimo torneo di One Piece, tenutosi come oramai è usuale fare in quel di Loop Games, dopo una battaglia senza esclusione di colpi, lo scontro finale per la supremazia e quindi l'aggiudicazione dell'evento ha visto Kaido avere la meglio sui suoi avversari. Ho già affrontato personalmente questo deck in un torneo passato e non ha girato al meglio, essendo privo inoltre di alcuni elementi fondamentali che ne hanno rallentato la meccanica di gioco. E conscio dei propri errori, Federico, lo stesso ragazzo che mi ha accompagnato nella composizione del deck del Dofi, che potrete trovare nella scheda appena apparsa in questo momento, ha apportato modifiche mirate atte a generare attacchi efferati, distruzione e catastrofi degne del nome di questo ex imperatore del mare. La lista che stiamo per vedere rappresenterà per ogni appassionato dell'archetipo tempo un paradiso vero e proprio e, parola del suo proprietario, avrà pochi avversari una volta giunto nelle parti finali di un match, ma ne parleremo fra poco. Prima di iniziare, se volete acquistare i prodotti del vostro gioco di carte preferito o gli accessori che renderanno unica la vostra esperienza ludica, vi consiglio di visitare Fantasia Store, dove troverete un catalogo fornitissimo di prodotti pronti a soddisfare ogni vostra singola richiesta. In descrizione troverete il mio referral link che potrete utilizzare per i vostri acquisti. In più, per ogni acquisto che farete, potrete beneficiare anche di un ulteriore sconto del 5% su ogni carrello ogni volta che vorrete, inserendo il codice CROGIOLO5. Utilizzando il referral link, aiuterete anche il canale a portare sempre nuovi contenuti innovativi che tratteranno argomenti riguardanti i vari GCC. E se effettuerete l'ordine entro mezzogiorno, la consegna sarà a casa vostra in 24-48 ore. Cosa state aspettando? Se cercate i migliori articoli, Fantasia Store sarà la risposta. In più, volevo invitarvi ad iscrivervi al canale, dato che molti di voi guardano i video dell'Arconte del Crogiolo, ma non avete ancora cliccato sul pulsante iscriviti. Pensate che se tutti voi lo faceste ora, potremmo raggiungere oltre i 10.000 utenti, quindi il vostro supporto è fondamentale. Datemi una mano a far crescere la community. Basta un singolo click. Ed ora scopriamo la decklist del mazzo di Kaido Viola. Andiamo a dargli un'occhiata. Partiamo dal leader, l'oramai celebre Kaido, che con il suo effetto attivato nella fase principale, una volta per turno, andando a riposizionare la bellezza di sette donne dal campo alla loro pila dedicata, vi permetterà di scartare una carta vita avversaria. Effetto davvero importante, soprattutto se utilizzato al momento giusto. Eh, ho capito, Arconte, ma quando sarà questo momento giusto? Idealmente quando chi vi giocherà contro avrà un singolo elemento a sua disposizione nella pila delle vite. Nella parte finale del video analizzeremo al meglio anche la win condition di questo mazzo. Sarà cosa da poco, ma dovrà essere svolta con precisione chirurgica. Essendo Kaido un colosso, soprattutto per la pesantezza dell'innesco del suo effetto, il complesso meccanismo che muoverà le dinamiche di questo deck richiederà inevitabilmente tempo. Come ottenerlo? Attraverso una sezione blocker di tutto rispetto. Black Maria, a costo 2 in quadruplice copia, rappresenterà la prima linea di difesa utile per arginare gli assalti del vostro avversario, possedendo unicamente la sua abilità blocker. Semplice e immediatamente utilizzabile. Dato che già da turno 2, se sarete i secondi ad iniziare, o da turno 3, se invece aprirete voi il match, Maria vi terrà al sicuro o dagli attacchi di mazzi che faranno del gioco veloce un requisito fondamentale, o garantirà protezione a quegli elementi indispensabili presenti sul terreno per lo svolgimento della vostra strategia di gioco. Ma non sarà di certo l'unica che già dai primi turni fornirà uno scudo che vi manterrà il sicuro. Korozumi Igurashi, sempre in 4 copie, infatti, con il suo costo 2 e i suoi 3000 punti di potenza, 1000 in più rispetto a Black Maria, con la sua semplice abilità blocker, sarà una carne da cannone eccellente per bloccare sul nascere tutti gli assalti rivali diretti verso il vostro leader. o ai danni di character che, se distrutti, rallenteranno le dinamiche di gioco del mazzo. Questi 8 elementi, Maria e Igurashi, svolgeranno il ruolo di dissuasori, cercando di protrarre quanto più possibile a lungo la durata dell'intero match. E a proposito di Black, oltre alla sua versione a costo 2, sarà presente nel deck anche una sua controparte potenziata. Black Maria a costo 4, in duplice copia, oltre che essere un eccellente blocker con ben 5000 punti, possiederà anche la parola chiave home block, che al solo costo di un don fatto tornare dal terreno nella sua pila dedicata, aumenterà di 1000 il valore di potenza di questo character per la durata del turno corrente. Un bello soduro da mordere per chi dichiarerà un attacco nei vostri confronti, dato che di supporti per nullificare il rientro del singolo don nel rispettivo mazzo ce ne saranno eccome. Di sicuro questo duo rappresenterà uno dei punti cardine del deck, da giocare immediatamente non appena lo avrete in mano. Ultimo del compartimento di difesa, ma non per importanza, sarà Queen in 4 copie, che non solo vi tutelerà adeguatamente, essendo anch'esso un blocker possedendo 6000 punti di potenza, ma vi permetterà attraverso la sua abilità home play, facendo a meno di un don sul terreno da posizionare come al solito nella sua pila iniziale, di pescare la bellezza di due carte dal deck per poi scartarne una dalla propria mano. Queen rappresenterà il motore rombante di questo mazzo, fornendo quella velocità di esecuzione che sarà come oro colato, dato che attraverso il suo effetto potrete andare a cercare quegli elementi che vi potranno tornare utili per contrastare le giocate avversarie. Ora, dopo aver visto cosa vi garantirà la sopravvivenza, tirando per le lunghe il match, scopriamo assieme cosa vi offrirà questo deck per dare fastidio a chi vi giocherà contro, andando a togliergli delle risorse che altresì potrebbero essere utilizzate contro di voi in dei turni futuri o favorendo le vostre giocate in vista di un attacco finale. La triplice copia di ulti sarà una delle risposte all'effetto di Black Maria a costo 4. Infatti una volta che sarà entrata in campo, spendendo un solo don, potrete aggiungerne un secondo dal loro mazzo dedicato posizionandolo esaurito in gioco. In altre occasioni, altrimenti potrete semplicemente impiegare questo personaggio per velocizzare le varie esecuzioni di innesco provenienti da effetti come quello del vostro leader, minacciando anche il rivale, volendo, in casi del tutto eccezionali, con attacchi potenziati, dato che, assegnando due donne adulti, essa otterrà un valore di potenza complessivo pari a 5.000, più che sufficienti per pressare l'avversario. Sasaki, presente anch'esso in quattro copie, seguirà il filone vi ulti, dato che una volta assegnatogli un don, quando ci attaccherete avrete la possibilità di scartare una carta dalla vostra mano aggiungendo di seguito un don in stato di esaurito dalla propria zona dedicata. E si parlerà, una volta potenziato, di un valore 5.000, che minaccerà a dovere il leader rivale che si vedrà costretto a ricorrere ai counter o blocker in suo possesso o inevitabilmente a vedersi sottrarre una vita. E dopo aver compreso quali saranno due dei tre ingranaggi che andranno a minimizzare il dover far tornare don dal campo al loro deck di appartenenza, vediamo quali saranno le risorse utili per mettere a ferro e fuoco il campo di battaglia. Who's Who, presente anch'esso in quattro copie, con il suo effetto on play, don-1, vi permetterà di mettere KO, un personaggio con costo pari a 3 o inferiore sul terreno dell'avversario, con conseguente effetto trigger che vi farà giocare il character a costo 0. Who è di certo un validissimo elemento, soprattutto per togliere di mezzo quei blocker rivali che vi impedirebbero di sferrare attacchi diretti ai danni di chi vi giocherà contro. In più, il suo valore aggiunto, ovvero avere la possibilità di essere giocato gratuitamente se rivelato dalla pila delle vite, farà di questo personaggio un validissimo alleato da utilizzare all'occorrenza per tutta la durata del match. Unica copia presente nel mazzo vedrà Kamaso calcare i tavoli da gioco, che con il suo effetto on-KO, andando a privarvi della presenza di un singolo don, eliminerà un character con costo pari a 5 o inferiore dal campo di battaglia avversario. Il fastidio che arrecherà questa carta una volta scesa in campo avrà dell'incredibile, dato che attaccando minaccerete le vite del leader che avrete di fronte con i suoi 5.000 punti ed una volta morto si porterà un personaggio rivale dietro andando a sfoltire la linea di gioco nemica. Ho visto personalmente giocatori rielaborare la propria strategia di azione pur di minimizzare i danni che gli avrebbe recato questo character. Personalmente lo trovo davvero forte. E la sua copia singola sarà giustificata dal fatto che, se risulterà piuttosto rognoso affrontare l'effetto di quest'ultimo, cosa vorrà dire far scartare una carta dalla mano dell'avversario scombinandogli totalmente i piani? A tale scopo la triplice copia di X-Drake costringerà il vostro rivale a scartare una carta dalla sua mano una volta che entrerà in gioco, privandovi di un Don riposizionandolo nella pila appartenente. Costo 5.000 di potenza ed effetto davvero devastante se incastrato a dovere. Non c'è altro da aggiungere se non character che sarà obbligatorio avere nel mazzo. E continuando a parlare di devastazione dopo aver compreso quale zona del deck vi servirà per infastidire il vostro rivale, scopriamo assieme quale sarà invece quella utile per concludere il match prendendo in considerazione l'artiglieria pesante che accompagnerà l'imperatore nell'impresa di aggiudicarsi la partita. Le 4 copie di King vi permetteranno una volta scese in gioco di fare a meno di un Don per eliminare un personaggio con costo pari a 4 o inferiore sotto il controllo del vostro avversario. E qui inizieranno i guai seri per chi vi giocherà contro, dato che possedendo ben 7.000 punti di forza ogni volta che ci attaccherete inizierete a sentir scricchiolare le difese nemiche creando quelle micro fratture che se sforzate porteranno alla creazione di una breccia che vi permetterà di raggiungere la vittoria di lì a poco. In più il suo effetto vi permetterà di togliere di mezzo dei blocker importanti come ad esempio Boa se vi doveste ritrovare ad affrontare un mazzo d'offi che posso assicurarvi non sarà roba da poco. Ma spostiamo la nostra attenzione dal re a quei personaggi che se impiegati al momento giusto potranno davvero far tremare la plancia di gioco. La doppia copia di Kaido a 9 rappresenterà davvero una grande seccatura da dover subire, dato che una volta sceso in campo, rimuovendo la bellezza di 5 don da sotto il vostro controllo facendoli ritornare come al solito nel loro deck, non solo potrete mettere KO, un personaggio con costo pari o inferiore a 6 sotto il possesso del rivale, ma il colosso guadagnerà addirittura rush fino alla fine del turno corrente garantendosi un attacco non appena lo impiegherete dalla mano. Pauroso è dir poco. Più volte mi sono ritrovato a dover affrontare questo bestione dalle mille risorse e ogni volta ho dovuto far ricorso ad ogni singolo elemento che mi permettesse di sostenere tale offesa senza cadere nella sabbia mobile del chiudermi in difesa fino a che sconfitta non fosse sopraggiunta. In più il suo valore di potenza pari a 10.000 contribuirà di certo a far sì che questo character non passi inosservato, visto il massiccio impiego di counter che saranno necessari per riuscire a bloccare un attacco di tale portata. Ma se credete che la distruzione sia arrivata allo zenith, aspettatevi di vedere cosa riserverà questo mazzo come ciliegina sulla torta. La triplice copia di Kaido a costo 10, una volta messo piede in campo, vi sottrarrà la bellezza di Seidon con conseguente distruzione totale di ogni forma di vita presente sotto il controllo di entrambi giocatori solo se il vostro leader possiederà il tratto Animal Kingdom Pirates. Tutto messo KO, sia i vostri personaggi che quelli sotto il possesso del vostro avversario. E poi vogliamo parlare di quel 12.000 messo lì a minacciare qualsiasi cosa dovesse giocare chi vi si ritroverà contro, lui stesso incluso? Carta davvero impressionante che esprimerà in tutta la sua brutale essenza la natura di Kaido. Passiamo ora, dopo aver visionato per intero tutta la sezione character, a quella dedicata agli event, dove ci aspetteranno delle carte che rafforzeranno all'occorrenza la scorsa già dura del vostro leader. A darci il benvenuto infatti ci saranno le 4 copie di Blast Breath, che con il suo effetto counter, Don-1, vi priverà per l'appunto di un singolo Don, aumentando così facendo di ben 4000 punti il valore di potenza di un vostro personaggio o dello stesso leader durante una battaglia. Questa carta sarà per il vostro avversario un ennesimo ostacolo da dover superare e rappresenterà uno di quegli elementi indispensabili da avere obbligatoriamente nel mazzo che manderanno per le lunghe il match, permettendovi di settare come meglio potrete le vostre giocate turno dopo turno. Infine, le altrettante 4 copie di Thunder Bagua vi permetteranno in fase di counter di aggiungere altri 4000 punti potenza, come al solito ad un character o leader sotto il vostro controllo durante una battaglia, consentendovi inoltre, se possiederete un numero di vite pari a 2 o inferiore, di settare in stato di esaurito un Don dal proprio mazzo in gioco. In più sarà presente anche un ulteriore trigger che riprenderà la seconda parte dell'effetto principale con l'unica differenza che il Don in quel caso entrerà in stato di attivo. 8 event che forniranno protezione ed in quest'ultimo caso velocizzeranno anche la giocata per il vostro turno successivo. Di certo per chi vi giocherà contro non sarà semplice superare i numerosi blocchi che gli parerete di fronte e sono certo che nel lungo periodo, quando gli arsenali inizieranno a scarseggiare, solo l'ombra cornuta di una sagoma munita di mazza chiodata si vedrà all'orizzonte. Ma non è di certo finita qui, dato che il mazzo di Kaido potrà usufruire anche di un reparto stage che verrà occupato interamente da una singola tipologia di carta che rappresenterà anche il terzo ingranaggio fondamentale che andrà a minimizzare la perdita di Don sotto il vostro controllo. Onigashima Island in 4 copie sarà già dalle prime fasi di gioco il motore vero e proprio che muoverà l'intera struttura del mazzo. Attivandola infatti nella fase principale del vostro turno, esaurendola, andrete ad aggiungere un Don in stato di esaurito dal proprio deck dedicato sotto il vostro controllo. Onigashima potrà essere in più, oltre la prima copia che giocherete, l'elemento ideale da scartare quando una carta con il suo effetto lo richiederà, vi da Shisasaki. Quindi, dopo aver visto l'intera lista del deck, passiamo ora a qualche strumento utile per conoscere meglio il mazzo, ponendoci la prima domanda. Qual è la strategia di base da dover seguire? Di sicuro dovrete rallentare con i blocker l'avanzata avversaria, per poi contrattaccare nelle fasi finali del match, impiegando i colossi a vostra disposizione, picchiando senza remore. Di certo, anche l'utilizzo nel momento giusto dell'effetto del leader farà una grande differenza e, come già detto ad inizio video, dovrà essere innescato al momento giusto, che, di solito, si dimostrerà essere quando chi vi giocherà contro avrà una sola carta nella pila delle vite. A quel punto, possedendo una board molto aggressiva, andrete a sferrare attacchi e ferati che difficilmente riusciranno ad essere fermati. Continuando quindi a parlare della fase offensiva, le vostre fonti di danno principali proverranno dal leader, che ogni turno, come sempre se possibile, dovrà attaccare i 5 Kaido, 2 a costo 9 ed uno dei presenti a costo 10, King, Queen, X Drake, Black Maria a costo 4, Kamaso e ovviamente Sasaki. Quindi più della metà del deck vi aiuterà nella fase attaccante. Per la mano iniziale, invece, la carta dal grado più alto, che dovrà esserci senza se e senza ma, sarà di sicuro Onigashima Island. Calcolate ciò, prima la avrete a vostra disposizione, più vi troverete in vantaggio. Se poi possiederete anche dei blocker a costo 2, tanto di guadagnato. Se estrarrete dal deck una mano simile a primo turno, come dico sempre, dovrete dimenticarvi il mulligan a casa. In caso contrario, mulligan ed incrociate le dita. Infine, per la fase counter, avrete 7 e 2.000 più rappresentati dai Sasaki e gli X Drake, e diversi event che potenzieranno di 4.000 il valore del leader o dei vostri personaggi. Date quindi precedenza a queste ultime per poi concentrare l'attenzione sui restanti 1.000 più da utilizzare all'occorrenza, e non ne avrete pochi a vostra disposizione. Parlando di matchup, il più difficile sarà contro il mazzo rosso, che rappresenterà l'arci nemico naturale essendo un aggro, che per antonomasia è l'antitesi del tempo. Quindi dovrete ponderare per bene ogni giocata, andando ad arginare come potrete ogni assalto rivale. Mentre per il verde di Kid, una volta raggiunto l'early game e distrutto tutto con Kaido a costo 10, avrete virtualmente vita facile, iniziando a minacciare le vite avversarie attacco dopo attacco. Per il blu di Doffy, invece, non sottovalutatelo e cercate di recuperare prima possibile la Onigashima e i vari colossi da far scendere in gioco appena possibile. Infine, parlando di mirror match, come sempre la percentuale sarà al 50% e l'ago della bilancia verterà a favore di chi prima riuscirà a giocare pezzi fondamentali della propria strategia. Nel mazzo avrete la bellezza di 29 carte con valore di counter che vi aiuteranno a creare uno scudo impenetrabile che vi permetterà di tirare il match per le lunghe, diversi elementi che andranno a distruggere personaggi sul campo di battaglia o facendo scartare una carta dalla mano dell'avversario, un reparto offensivo degno di nota e una delle prime vratte della storia del gioco che, al pari di un buco nero, andrà a distruggere ogni character presente sulla plancia. Per non tacere inoltre del supporto fondamentale di carte che andranno a limitare l'eccessivo privarsi di Don sotto il proprio controllo e molto altro ancora che spetterà a voi scoprire partita dopo partita. Concludendo, trovo Kaido un mazzo che già dal pre-release si è dimostrato pesante da dover gestire, ma addentrandomi personalmente nelle sue dinamiche ho scoperto un nuovo modo di giocare l'archetipo tempo che mai avevo provato, trovandolo davvero divertente. E voi avete mai incontrato questo colosso indistruttibile in un torneo organizzato? E come è andata a finire? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei DCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.